Search & Go, due bloggers in Sicilia, in questa parte della Sicilia occidentale, per visitare i luoghi di interesse culturale, artistico, archeologico. Ma intanto, cos'è Search & Go? Come funziona? Quanti contatti avete? Allora, Search & Go è un blog di viaggi, documentiamo in questo momento, stiamo documentando proprio il sentiero Italia Cai, che è quello che stiamo percorrendo ormai da tre mesi, tra due giorni fa tre mesi, quindi stiamo cercando di documentare nel miglior modo possibile e valorizzare il patrimonio artistico nazionale, che è quello che contraddistingue un paese come l'Italia. C'è un diario di viaggio, ci sono dirette all'interno della pagina Facebook, video su YouTube, live su Instagram, quindi utilizziamo tutti i canali social che riusciamo, in più il pezzo forte sono gli articoli del blog, quindi con le nostre impressioni di quello che troviamo, quindi di tutto quello che visitiamo e che abbiamo il piacere di visitare anche grazie alle persone del posto. A proposito di impressioni, siamo qui alla rocca del castello di Calatubo, un sito che probabilmente non conoscevate, che idea vi siete fatta? Ah, qui è veramente molto molto bello, assolutamente, si respira una grande emozione. Ci sono posti in effetti che valgono veramente la pena visitare e conoscere le loro storie, che in questo caso, anche qui, grazie alle persone del posto, riusciamo a capire, a comprendere qualsiasi cosa. Quando voi vi spostate, diciamo, anticipate la vostra presenza anche alle amministrazioni comunali, alle istituzioni per avere informazioni, materiale informativo? Eh sì, per informare che del nostro arrivo, se ci possono mettere a disposizione, non dico una guida, ma qualcuno che ci faccia sapere cosa c'è da vedere nel proprio posto, perché ci piace proprio far conoscere appunto le bellezze del sentiero. Noi abbiamo avuto molta disponibilità da parte delle amministrazioni comunali, devo dire la verità, soprattutto nella zona del Ricino, quindi soprattutto anche grazie al CAI di Erice, abbiamo avuto davvero tanta, anche il CAI di Castellammare del Golfo, sono stati davvero delle persone fantastiche, per questo ringraziamo Maurizio Morisi. Purtroppo ad Alcamo abbiamo provato a contattare l'amministrazione comunale, dapprima per telefono, successivamente tramite PEC. Purtroppo non abbiamo avuto risposta, a noi dispiace perché grazie a una persona del posto siamo riusciti a visitare, non dico tutto il paese, però gran parte, quindi il Monte Bonitano. Qui al Castello rimanete fuori? Qui al Castello rimaniamo fuori, sì, esattamente. A noi dispiace tantissimo perché siamo venuti a piedi dal Camomarina, quindi pensate. Pensavamo di trovare comunque aperto, speravamo più che altro, la speranza è quella, siamo blogger, quindi documentiamo. Arrivare qui non riusciamo assolutamente a fare un articolo. Se qualcuno non lo sapesse, il sentiero d'Italia passa proprio attraverso il territorio di Alcamo. Esattamente, noi siamo del CAI di Castellammare, il CAI di Castellammare c'è un gruppo della senteristica. Ora il CAI di Castellammare c'è a sua dipendenza, diciamo, quattro tappe che sono da Macri a Scopello, da Scopello a Seggesta, da Seggesta ad Alcamo che passa tramite le terme e poi da Alcamo fino a D'Amuse che sarebbe vicino a San Giuseppe Iato. Perciò il CAI di Castellammare lavora per queste cose, però non c'è la sensibilità degli enti pubblici per poter incrementare queste attività. Insomma, ne convieni che, tra virgolette, non ha senso partecipare alla BIT di Milano se poi i siti sono chiusi? Assolutamente no, assolutamente no. La BIT di Milano prevede materiale informativo, prevede che si hanno degli opuscoli, delle brochure. Noi siamo stati all'ufficio turistico, ci ha accolto una ragazza gentilissima, devo dire la verità, però non c'è materiale. Io sono uscito con delle fotocopie, con una brochure e una mappa del paese. Grazie. Grazie.